Cari amici, realizzo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Questa è un'altra variante della collana chiamangeli. La collana ha anche uno strasso al centro, come si vede. Si può anche aprire. Questa si può inserire anche una catenina, se si vuole, si realizza anche come ciondolino l'interno della campanellina. Il tutto viene spedito sempre con la sua confezioncina. La spedizione viene effettuata tramite Corriere SDA.